Ahimè, è arrivato di nuovo il momento di parlare di Rockstar Games Scusatemi innanzitutto se sono con questa faccia, con questa barba, con questi capelli, sono abbastanza sbattuto Ho fatto un paio di giorni fa la seconda dose del vaccino e sono parecchio messo male Inizialmente ho pensato di non fare questo video semplicemente perché le decisioni di una software house hanno un'interpretazione particolare Come posso spiegare? Diciamo che Rockstar Games negli anni ci ha abituato a DLC gratuiti, a glitch, chi volesse fare glitch Ha ore e ore di intrattenimento e io non mi sono mai lamentato Diciamo che io non sono dalla parte di chi fa glitch o di chi utilizza mod menu anche sulle vecchie console Ma non voglio proprio parlare di questo, voglio parlare di una cosa molto brutta che secondo me molti giocatori condivideranno Allora, hanno levato molte modalità competizione Probabilmente molti giocatori o non se ne sono accorti o comunque questa cosa non gli è pesata più di tanto Ci sono giocatori che preferiscono, come dicevo prima, passare la maggior parte del tempo a giocare a GTA GTA Online intendo Semplicemente a fare glitch, a fare duplicazioni di auto Va tanto la duplicazione delle ISI così per rivenderle E nonostante io non seguo quella scuola di pensiero, ognuno fa quello che vuole Però ci sono anche tanti altri giocatori che si divertivano con le modalità competizioni Parliamoci chiaro Fare le classiche missioni, fare le rapine, i colpi È sempre stato bello Ma di modalità competizioni ce ne erano veramente tante Soprattutto per i nuovi giocatori insegnavano, a parer mio, io parlo sempre a parer mio Insegnavano le meccaniche di gioco Insegnavano proprio a sparare Perché ci sono alcuni giocatori che in free mode sono bravissimi a uccidere Poi vanno a fare le missioni e muoiono dopo due colpi Quindi capire e imparare le meccaniche di gioco anche all'interno di modalità Oltre a queste modalità competizioni che hanno levato E ho visto che ne sono rimaste quattro Oggi è il 25 di settembre 2021 Sono rimaste quattro, cinque modalità competizioni Le più belle le hanno levate Vorrei ricordare Bestia Contro Maniaco Che era una delle più belle, secondo me Proprio ti insegnava a sparare E uno diceva ci vuole a sparare C'è l'automira No, proprio ti insegnava a sparare A utilizzare vari tipi di armi E soprattutto ti insegnava la logica del gioco E anche alcune meccaniche che in free mode non impari Hanno levato anche le attività paracadutismo Cosa dire? Cioè le attività paracadutismo Io le trovo molto carine per passare il tempo Per fare gli stupidi con gli amici Hanno voluto fare queste... Questi tagli Hanno voluto fare questi tagli E non hanno invece levato Glitch Non hanno voluto levare alcune... Alcune stronzate, diciamo Che potevano benissimo levare Innanzitutto correggere alcune texture Che veramente sono pessime Non l'hanno ancora fatto Non hanno levato l'immortalità Il glitch dell'immortalità C'è ancora gente che dopo 3-4 anni Utilizza il bug del furgoncino blindato Che adesso non mi viene in mente come si chiama Quello del nightclub Che sostanzialmente diventa invincibile La gente si mette dentro Tu li puoi tirare 10 orbitali Non succede niente Non hanno levato il glitch dell'orbitale C'è gente che in sessione Orbitalizza gli altri E lo fa una volta ogni 5-6 secondi Sessioni completamente ingiocabili Molti diranno Eh vabbè ma Rockstar ha interesse A tenere glitch E varie altre stronzate in sessione O comunque all'interno del gioco Mossa molto stupida Per i veterani e i giocatori onesti come me Io sono rango 1436 oggi E dopo praticamente dal day one che gioco Sia su PS3 che su PS4 Non è una cosa che mi aggrada Che nonostante tutto ci sia gente Che riesce a guadagnare soldi Tramite duplicazioni Quindi entri in sessione E dopo 20 minuti Ti sei fatto le tue issi E le vai a rivendere Va anche contro i loro interessi Dato che loro vorrebbero vendere Più sharkar possibili Eh non c'è bisogno di comprarle A parer mio Perché io negli anni non le ho mai acquistate I miei milioni li ho sempre farmati Giocando E soprattutto sfruttando I periodi dove ci sono i per due Per tre Di attività Hanno levato queste modalità Che secondo me erano molto carine Hanno anche levato le attività versus Che oddio non ero del massimo Ma erano comunque Diciamo una delle prime attività Ad esempio C'era una dove Con i laser Dove proteggere un aereo Qual è stata una delle primissime modalità Che hanno inserito Hanno levato queste attività A parer mio Molto belle E non hanno levato i glitch Non hanno levato i bug Non hanno levato Gente che in sessione è immortale Potrebbero levare tante cose Che a parer mio Sono stupide C'è anche il fatto di usare L'RC bandito in sessione C'è gente che C'ha rate o sei Per dire E sta tutto il giorno A ucciderli altri Con la bandito Vabbè Vogliamo le tenerla Teniamola Ma ci sono tante cose Che potrebbero levare Hanno voluto levare Delle attività Che hanno inserito loro E loro hanno detto Tra l'altro Che a rotazione Reinseriranno tutto Ma se io oggi Voglio giocare a bestia contro il maniaco Non posso Devo aspettare Chissà quando Per poterla Riutilizzare Rigiocare Con gli amici ovviamente Perché sono attività Che da solo tu Non puoi fare Io non voglio fare un appello A Rockstar Games Perché so che non serve nulla Anche perché questo video È un video del cazzo Fatto con il telefonino Adesso è l'ultimo secondo Ma perché mi è venuta la scimmia Di dire Cioè sono incazzato Non è giusto Dopo anni Di attività Che tu Rockstar hai creato Adesso le hai levate Per Inserire nuove modalità Per Mantenere Aiutare il matchmaking Il matchmaking Potresti benissimo sistemarlo Alzando leggermente i guadagni Basta del 20% C'è gente Che non vuole più far soldi Cioè Non è che non vuole più Ma non ha voglia di far soldi Magari con le modalità competizioni O comunque Se ci sono persone Che ogni giorno Si vendono 3-4 issi A 2 milioni l'una 2 milioni e 4 Quanto vale Non ha interesse A fare una modalità competizione Quindi Correggi tutti i glitch Togli tutte Ste cazzate di Duplicazioni Cose varie Le levi tutte E vedi che la gente Ricomincia a giocare In sessione Comincia di nuovo A giocare In In lobby Che non so Bestia contro meno Quelle fanno più persone Perché così Non incentivi La gente a giocare Anzi La gente continuerà Solo Unicamente A giocare Sì Ma a fare glitch A baggarsi A fare Tutti i completi Del cazzo Si mettono in sessione A fare bordello Allora Leva tutti I soldi infiniti Che si sono fatti Leva tutti i glitch Leva tutte Se stronzate qua Parere esattamente Personale Rimetti Le modalità Che piacevano tanto Alle persone Che ci si passava il tempo Rimetti il paracadutismo Rimetti le gare Aumenta del 10 15% 20% I guadagni Su quelle modalità E vedi che la gente Le gioca Perché dire Aiutare il matchmaking Non ha senso Cioè Devi levare Quei cazzo di glitch E vedi che la gente Gioca lo stesso Un saluto a tutti E Spero di riprendermi presto Per tornare a fare video Ciao a tutti Ciao a tutti